Ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni di Trevi Meteo. Vediamo come proseguirà il resto della settimana santa, dando uno sguardo anche alla Pasqua, che purtroppo anche quest'anno sembra caratterizzata da una certa instabilità, sia a livello di tempo ma anche proprio la previsione stessa è piuttosto difficile, in quanto in questo periodo sono frequenti gli scambi meridiani tra l'Europa settentrionale e l'area mediterranea e dunque questo comporta che le previsioni possono cambiare repentinamente anche a poche ore dall'evento. Per il momento possiamo dire che fino a giovedì rimarrà il tempo di questi giorni, dunque l'anticiclone sull'Europa centro-occidentale associato a correnti da nord-ovest sull'Italia favorirà tempo buono e soleggiato su gran parte delle nostre regioni, salvo densamenti sulle Alpi e locali instabilità sul basso terreno. Poi venerdì è con primo cambiamento, con lo sgonfiamento della pressione proprio sull'Europa centrale, la discesa di correnti più fresca da nord e dunque la formazione poi di vortici di personari anche sull'Italia. Un primo di questi dovrebbe interessare proprio il nord a partire da venerdì pomeriggio, venerdì sera e poi scivolare tra sabato e domenica anche sul resto d'Italia fino ad arrivare sul basso Adriatico. A seguito di questo fronte poi il tempo non migliorerà del tutto perché appunto l'aria fredda che è associata al vortice favorirà una certa instabilità anche tra Pasqua e Pasquetta. Questo non vuol dire che il tempo sarà perturbato, anzi ci saranno dei momenti anche soleggiati, ma comunque l'acquazione sarà sempre dietro l'angolo. Per quanto riguarda quello che possiamo dire di certo è che sicuramente ci sarà un calo termico nel corso del periodo pasquale rispetto a questi giorni, avremo anche 7-8 gradi in meno su alcune zone d'Italia, mentre possiamo iniziare a provare a tracciare una prima linea di tendenza per Pasqua anche se ovviamente andrà rielaborata nel corso dei prossimi giorni. Vediamo infatti come l'avvio della giornata di Pasqua dovrebbe essere buono sul nord Italia, sulle regioni tirreniche, sulle isole maggiori, mentre ci saranno degli acquazioni al centro-sud in particolare versante ionico e adriatico, ma poi appunto come dicevo prima nel corso del giorno potranno esserci nuovi temporali, nuove acquazioni sia sull'area alpina e prealpina in discesa verso le pianure, sia sull'appennino in punto di scesa verso le zone limitrofe. Rimanete dunque aggiornati nei prossimi giorni per vedere tutte le eventuali novità sul tempo pasquale.